Il Catania lavora a pieno organico o quasi in vista del derby contro il Trapani di venerdì notte. I rossazzurri, privi ancora di solamente Edoardo Blondet, stanno studiando le mosse da contrapporre all'avversario che solitamente in campionato è sceso in campo con il 3-5-2 tanto caro a Calori. Dunque il 4-3-3 sarà probabilmente l'assetto tattico del Catania venerdì sera al provinciale con la conferma di Di Grazia che ha smaltito gli acciacchi post-Akragas e deve scuriare al centro dell'attacco. Sull'altro out Andrea Russotto che nonostante la notizia di ferimento giunta ieri in seno ai fatti di Catanzaro Avellino ci sarà. Tuttavia occhio ad Andrea Mazzarani che spinge per una maglia da titolare a centro campo con viaggianti e lodi confermati in mediana. Capitolo tifosi, ieri è arrivato uno stop dalla prevendita del settore ospiti. La situazione non sembra essersi ancora sbloccata. Il Catania ha bisogno dei suoi tifosi in un match tanto importante per la classifica ma sarà il prefetto in queste ore a pronunciarsi con una decisione definitiva.